vorrei fare un appello a mamma colana per favore veramente se non riesci proprio per pes 2020 2021 per favore per pes 2022 fai di tutto per non fai di tutto per ritornare indietro cioè che quando trovi adesso vi faccio vedere questi grandissimi parrassiti che siano italiani o stranieri gli devi far fuori subito io una partita al giorno voglio fare con ami per favore guardate oltre che di giorno io le posso pure per le partite le post le posso perdere pure tutte chissà perché adesso no mannaggia la muerte da tanda mannaggia bastardi voglio senti un perame io vi vorrei di fronte veramente prendevi a schiaffi ma veramente a schiaffi chissà perché il manino vedo niente di strano tutta la maiala che non l'ho registrato dal primo minuto cristo santo è impossibile che sia sparito figlio di puttana no vabbè dai allora e allora vabbè da vabbè non mi sta lagando più questo volevo dire io lo sapevo vabbè da ma mi sto incazzando come una bestia ma io una al giorno devo fare ma non è possibile cioè una al giorno oggi ieri no ieri no ieri no ho voluto provare le brezze di 900 punti mamma mia e che cazzo è che non ho trovato campioni super campioni di campioni di nuovi ma la mia segnato con il lago maledetta la muerte da tanda non si vede e vabbè e non mi seleziona battistuta o mo è che mi sto incazzando mo è sto cesso parassita russo veramente se sei russo è un figlio di puttana se puoi cercare taglio e mezzo e toglia l'antico io mi ha rotto già i coglioni ma guarda la gama donna mi che cazzo mi sta succedendo vado a vado a madonna mi vita abilità di pazzesco ma cerca il pallone filtrante ma c'è recupero della difesa e non fisco un fallo non mi fischio un fallo 1 ho fatto il fallo io ma le parti che vabbè da raga non laga più ve lo giu ve lo giuro solo c'è quando ha segnato ha lagato tutto il tutto da quando ha iniziato a partire un'attacca era bastardo bastardo chi ne da merda figli da puttana figli da puttana madonna nervoso che mi sta salendo maledetta la muertaccia da mamma maledetta bastardo bastardo bastava le amate schifo che cancro di gioco veramente siete una massa di bastardi guarda alla gatta guardate guardate no raga guardate sono dei robot in mezzo al campo guarda 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 mamma mia mamma mia mamma mia raga io veramente mamma mia lui è tutto fluido raga guarda 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 io non ho parole tutta colpa tua con tutta colpa tua tutta colpa tua tutta colpa tua bastardo bastardo ti faccio vedere un altro che ho bloccato ieri sera pugliese foggiano eh faccio vedere come cazzo mila gavaglieri ragazzi mamma ma che se lo sputaniamo guardate come la guarda adesso guarda guardate guardate ma vedete i frame cieli come ecco le tacche avete visto basta basta tutto tu tu conami se veramente penso 2021 sarà così e non voglio neanche più giocare guarda guarda che cosa devo giocare secondo me dito guarda 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 tua madre sulla bagage guarda tua madre quella bagage mamma mia raga guarda guarda gli altri anni non dico l'anno scorso ma anche l'anno scorso cadevano queste partite le cadevano le vuoi dare sconfitte a me dalle sconfitte a me ma le faceva cadere queste queste partite ragazzi veramente uno schifo veramente questo non è neanche che vuoi fare questo è grandissimo figlio di puttana poi ci non devi dire parolacce devo voglio essere tutti belli precisi e dire no non c'è lo script no 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 non è un problema di konami e ma si mai serve di konami si devono adeguare ma batte l'affangulo vai ma andate a fare in culo vai ma andate a fare in culo vai connessione di merda ma affamocca la capra ma non solo giochi di giochi mi fai pure sta connessione di merda ma bene dai fai il cross del bag oh una partita la tranquilla uno vuole fare ma vai a cagare vai pezzo di merda pezzo di merda vatta a fare tre litri di vodka vai chi ne da merda ma poi forse uno c'è chi ha diciumetto campione niente io la voglio dare avanti e gliela da quello la fa niente tutta fluida lui io non riesco a fare niente niente 49 es sfisca dopo domani la partita dai 49 es due minuti 49 es questa è un'altra minchiata di konami oh konami mi hai rotti i coglioni vai a fare in culo tu come lavoro io ci lavoro pure io ma che cazzo fate là ma che cazzo fate volete lavorare madonna mia io non ci credo madonna mia inizia adesso il secondo tempo madonna ma eh solitamente cercare di segnare un gol i bulli che non sai il mio bulli non salta niente niente pezzo di merda tre gol così mi ha fatto tre gol a gand pezzo qua 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 pezzo di merda da una fischia guardate hotel lag non fischia la partita le punizioni oh lagga non fischia l'haga non fischia va e e e e e e e e e gli diamo adesso 11 punti a questo va benissimo scendiamo sotto gli otto c'è voglio scendere sotto gli otto c'è prossimo obiettivo ottocento mamma mia ma lo state vedendo voi con gli occhi vostri poi dici con ma chi cazzo è che vai a vedere qua ma guarda ma di che cazzo stiamo parlando ma guarda forti e che comprenda vabbè dai adesso venite a commentare tutto so tutto venitemi a commentare sostitica mandatemi a fare in cui tutto quale guarda guarda guardate uno guardate guarda guardate porti e guarda guarda la gamma da best team the best della pucchina da mamma del best che è del fascia bella best fashman li fa con i risulti di fatto li fa con i risulti non riesca a fare un cazzo con il processo io non ho mai quittata ragazzi ma sta facendo sta fine sul gioco ma no raga ho io la pazienza ho già un link a pazienza la mia pazienza c'è un limite ragazzi ho fatto io fallo no vabbè da ragazzi io non ci credo queste russi questa è messa bandiera russa ma non ci credo che russa a passare con un pallone profondo ma no pezzo di merda ha cercato di spazio 10 ma non ha avuto fortuna ma merito 3 questa è un merito 3 ma mamma non so se qualcuno lo conosce ma lo dica ragazzi non ho proprio il controllo di niente proprio io sto schiacciando a cazzo di cani sto schiacciando a cazzo di cani come ho visto russo giorno ci tappò vai madonna e poi arrivano quelli che capiscono tutto no ma non sono i sei mai serve non sono dedicata madonna io non mi ricordi erano lo scorso anni fa quando vedevi queste connessione buriundi cadeva la connessione cioè tu non me la puoi far continuare perché un gioco ti dice vabbè ma questo che fa l'attacca la stacca l'avete visto l'avete visto che cazzo dobbiamo parlare come fai tu a iniziare la giornata così basta mi sono lotti i coglioni veramente ma che schifo veramente guarda qua i ritardi che ho i ritardi ma fa pulino look fa fongendo un look da mamma ti do buc du culo magari sei italiano e ti stanno vendendo a trilha oh vedi che qual ti sta ma mamma te le becchi tu anzi se lo viene a scrivere so te ne dirò ancora di più fighe da scassa che da trick e track da mamma che da trick e track da mamma ma fa forneggia questa partita ma ruggio cazzo anche definita cazzo di partita poi come fanno a dire che non è non sono i serve non è la connessione allargata poi va 2000 poi giochi di giorno qua guarda no roba basta ma che schifo veramente che da bocchina che da scassata da mamma e ieri se mi ha fatto girare il coglione quello di foggia la mamma me raga mamma mia quanto ha lagato tutta la partita ma ha lagato che figlio di puttana pure lui e mo vi faccio vedere chi è e andate gliela a dire se lo conoscete così se lo così se viene a commentare sotto capiglio lo dico bello diretto diretto scrivendolo in dialetto pugliese ma mamma me ma madre ma madre che schifo veramente avete visto dopo i due gol nuovamente dopo i due gol a gatti non ha lagato più io che vi ho detto io che vi ho detto ma lumenica per entrare a camale che cazzo ma parla a cazzo cazzo da lì e senza difensori sarebbe stato veramente difficile bachista non puoi permetterti di concedere spazi del genere ma non è un pochettino a tutti stanti sono faccio tutto lo faccio sto faccio pica che sta morto spingi spingi a quanto pare ci sono dei cambi da entrambi l'anno c'è un doppio cambio con due uomini diversi contemporaneamente il loro sistema di giro seguirà qualche modifica e ora è tutto il nuovo possibile davvero un gran finale che cosa dove no raga dove no vabbè dai no vabbè dai vabbè dai vabbè dai vabbè dai vabbè dai vabbè guarda vabbè dai vabbè dai assurdo che cazzo di fuorigioco mi ha fischiato vabbè dai dai ragà non ci credo questo è fuori gioco questo è fuori gioco no vabbè vabbè dai vabbè dai bravo 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 vabbè stetti mamma quanto mi fanno girare i coglioni questi vogliamo mi fanno perdere solo tempo la prima del giorno questa è una e mi faccio vedere quello di ieri sera ieri ne ho bloccati non zaccato i squandi ieri sera quanti vedete dai 900 tondi tondi a 8 e 35 perché ne sto trovando una marea di questi mamma mia mamma mia 1099 partiti in queste condizioni brutto figlio di puttana e se il 100 132 ne ho bloccati 168 vai ed è un altro vai vai avanti andiamo avanti così Konami Konami io sto facendo questo appello Konami mi hai rotto i coglioni veramente mi hai triturato i coglioni mi hai brutta figlia di puttana mi hai triturato i coglioni veramente sei una bagaccia sei sei una bastarda tu e tutti quei figli di puttana come questi qua come questi parassiti come questi questi sono tutti i parassiti questo è parassito quando lo conosciamo per qui ho vinto qui ho vinto mi pare che uno di questi ha laggato lo stesso l'ho bloccato questo qua storonzo slasher trattino canna 55 per chi cazzo lo conosce ragazzi questo è un laggatore di laggatori di tutti quello di prima gli ha fatto un solletico questo con 855 partite foggia mo latte e sangue latte e sangue ve lo dici di aletto latte e sangue capito questo questo sto cesso qua sto cesso laggatore ragazzi occhio a questo occhio a questo occhio a questo ah poi vi faccio vedere questo qui guardate ragazzi guardate la valutazione 36 partite 36 partite ragazzi l'ho battuto 2 a 1 minchia non che la gara minchia per batterlo allora questo è quello che è la gara e questo questo è il re dei re no da per non dire pareggio contro di questo questo in sacco è un altro che ho bloccato dove sta quell'altro che ieri la tal giorno fece il post qui li ho presi vedete queste sconfitte tutti contro i meriti campioni ma vabbè lasciamo aperto ecco qua questo qua che ha fatto il post contro di me 115 partite allora mi dici che lo scritto non esiste proprio tu è vero spero che te lo vengono a dire come cazzo fai a dire che io parliamo solo di partite my club non mettiamo copp match day cazzate i vali questo è my club tu hai 115 partite farei una ogni 20 giorni giusto? mi batti 3 a 1 dove puoi dire quello che vuoi ma mo te lo dico pubblicamente ti ho massacrato che sei chiaro tu hai fatto 3 tiri 3 gollo me la ricordo bene la partita io ho 18 tiri mi sa 13-14 ci importa pali attraverse comprese non ce lo scordiamo perché io le rendo pubbliche le cose quando qualcuno dice che io non le rendo pubbliche sono pubbliche come questo qua che è andata io poi mi potete taggare fare il posto lo sapete io non ho problemi ma io ne ho io cazzo lo posso dire io che ho oltre 1500 partite e 523 sconfitte solo su my club perché pure io match day ne ho fatte 466 di copp non me ne fotte un cazzo 17 fuori my club 287 c'è pure io ho oltre 2000 partite tu che ne è 115 mi viene a dire che non c'è non esistere lo script qua e là ma stai scherzando ma veramente e ti ho anche dimostrato adesso questo che larga ve lo fate vedere le partite ciao raga siamo quasi a quota 1000 ci stiamo arrivando vi voglio bene vi ringrazio saluto anche a quelli che sono ritornati senza sono ritornati mi hanno commentato senza che io l'ho mai cacati poi non hanno avuto il coraggio di rispondere io porto io butto merda sugli altri ma che uno a te non ti ho mai cacato due hai avuto il coraggio di venire a commentare sotto tre ma sai a me che cazzo manafretti noi del gruppo andiamo avanti stiamo crescendo e mi sa e lo ripeto per l'ennesima volta che io e il nostro gruppo facciamo un po' rodrio e il curo eh non voglio fare i disic non voglio fare i nomi io continuo a portare a testa alta il nome mio e il nome del gruppo PES Fan Club Italia soprattutto saluto tutti tutti sto un po' incazzato non faccio nomi non ve la prendete e alla prossima Konami datti una svegliata che mi hai rotto propri coglioni ho fatto la rima ah 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 ah